benvenuti ben trovati finalmente il ritorno dei video della verità dei massimi esperti questa sera parleremo di un video approfondimento in cui però potremo anche fare qualche piccola illazione infatti ci sono dei piccoli riferimenti che faremo nostri e vedremo un attimino di andare a parlare da qualche parte molto interessante ovviamente una premessa doverosa questo è molto importante l'ha detto già cattacuri domeniche live oltre i like che sono gratuiti sono gratis anche le iscrizioni quindi io chiederei a chiunque sta guardando questo video di iscriversi almeno al canale se poi siete nuovi iscritti vi consiglio di recuperare i nostri vecchi video adesso partiamo il tema di questo video sono gli opuscoletti Road to Laguetele per adesso sono tre volume 1 volume 2 e volume 3 questi opuscoli narrano diverse storie inerenti One Piece ovviamente non è obbligatorio che l'opuscolo possa contenere delle nuove informazioni per la trama bensì potrebbe anche contenere cose che già sappiamo inoltre questi manoscritti che verranno contenuti al loro interno fatti e disegnati dei Ciro Oda potrebbero essere delle storie che lui ha scartato e che non sono più comparsi all'interno del magno cioè delle bozze che lui aveva pensato inizialmente e poi ha modificato durante la narrazione facendo un recap veloce ovviamente non vi dirò tutto per quello vi aspettiamo in pagina facebook e su instagram ma dirò solo le cose più importanti e dirò ad tulafatel quindi diciamo le informazioni più importanti più interessanti e che potrebbero interessarci nel primo volume infatti ci sarà un riassunto sui rocks vari designer affiguranti rufi e la ciurma momonosuke adulto oden i tre daimyo del flashback di Yamato quindi tra cui Ushimaru Shimotsuki ci sarà anche il vecchio Kozaburo e altre informazioni di questo tipo andiamole a vedere in dettaglio innanzitutto oden kozuki non c'era la transizione temporale dei 5 anni di attesa cioè quando balla nell'arco narrativo lui avrebbe fatto seppuku o seppuku il suo obiettivo principale era unificare il paese e non conquistarlo da questo punto di vista nel senso prendere il potere oden doveva avere un gatto di nome Mamoshi poi sempre oden non doveva chiamarsi Kozuki inizialmente il suo cognome non doveva essere Kozuki ma doveva essere Tsukikage oden sempre veramente con un collegamento alla luna perché Tsukikage è ombre al lunare Kozuki è luce lunare in una fase iniziale Oda aveva pianificato quattro foderi rossi Giushiro della nebbia che doveva morire Kinemon Foxfire che è sempre lo stesso Muzan della nebbia ci ricordiamo ovviamente Kimetsu no Yaiba che doveva essere tipo Kanjuro perché maneggiava il pennello Corvo Nero Raizo, un donnaiolo successivamente diventarono sette i sette ruffiani, i sette bastardi del paese di Uano Doccia Serale Kangjuro Raizo della nebbia Kinemon Foxfire poi c'era lo scalpellino Stone Man doveva essere i Tetsu del vento quindi se guiamo i Tetsu inizialmente stavano i foderi rossi c'era Shuntemaru che poi è diventato Asciura poi c'era uno definito Pisolino il ragazzo dell'ora della strega sarebbe come conosciamo Denjiro Ushimizu Koza e poi c'era Kawamatsu ci sono altre info come degli schizzi di Oden degli schizzi di Mugiwara degli schizzi dei foderi rossi degli schizzi dei vari personaggi varie sketch, varie gag tra Momonosuke, Nami e Robin e così via però la cosa importante su cui io mi soffermerei c'è anche uno schizzo molto interessante dei tre capitani quando stanno per arrivare lì ad Onikashima ma la cosa importante che viene fuori qui e su quale ci soffermiamo su Roald Sulaftail 1 è quello di dove potrebbe trovarsi il quarto Roald Poneglyph tre isole ci dà questo fuscoletto Elbaf, l'isola dei giganti Acino's Island l'isola dei pirati quartier generale dei pirati di Barba Nera ex pirati rocks e infine Vira dovrebbe essere così che si pronuncia Vira, Vela insomma è un'isola che menzionò Nami in passato è un'isola sul quale arrivò, visitò Mont Blanc, Nolan ve lo ricordate no? il passato dell'isola del cielo che poi venne definito bugiardo eccetera eccetera e infine è l'isola che venne tra virgolette salvata dall'armata rivoluzionaria è molto importante questa informazione perché possiamo farci un'idea queste potrebbero essere le tre isole chiave ovviamente non è detto che sia su una di queste tre ma se lo fosse e beh c'è stato un mezzo spoiler anche se già in molti avevano pensato a Delbaf inoltre ci sono anche delle piccole informazioni dei pirati Rox la più importante tra virgolette è che l'equipaggio si formò 44 anni fa e venne distrutto 38 anni fa a Godovalle e quindi praticamente l'equipaggio del nemico più forte di Roger così è stato definito in questo puscolo cioè Rox di Gbeck è durato praticamente sei anni solamente adesso passiamo al secondo puscoletto di Roar tu la fratella in questo secondo volume si punta di più sugli imperatori infatti in copertina vediamo Teach e Shanks sull'altra copertina invece c'era Roger è molto importante però si parla anche ovviamente di Kaido e di Big Bang su quale ci sarà un focus maggiore soprattutto sullo Yonko l'imperatore dragone allora conterrà degli schizzi sui vari topi roppo sulle calamità e su altre informazioni che adesso vi vado ad esplicare allora ci sono vari schizzi dei vari dei san di Kaido di King di Queen di Jack di Dobiro con varie curiosità innanzitutto i progetti iniziali di Kaido ibrido erano con una forma più draconica più lunghi artigli più in forma drago cioè la forma ibrida era meno umana che poi tra virgolette è comunque mostruosa quella che alla fine è venuta fuori però in quel caso era ancora più pazzesca inizialmente il titolo delle all star doveva chiamarsi face cards i vari nomi dovevano essere ace shuffle cut trick deck chip poi sono stati modificati ovviamente ci sono i vari schizzi inizialmente Oda a Kaido voleva dare il frutto mitologico dello Yamata no Roshi il frutto del braggiosauro doveva passare a Jack il frutto dell'opteranodonte doveva andare a Queen poi vediamo vari schizzi di King con varie personalità che Oda diciamo voleva attribuirgli poi vediamo delle informazioni su Black Maria doveva avere ancora altri due frutti cioè Oda scelse fra i tre uno era l'Obi Obi no Mi che ricordava un po' Daki di Kimetsu no Yaiba che poi ha anche riferimento ai vari yokai un altro doveva essere dello Stegosauro ma alla fine è stato scelto quello che ricorda sempre a livello di yokai lo Yorogumo come io e Katakuri vi dicevamo all'epoca vengono mostrati anche altri personaggi altre scene anche con Sanji Ulti doveva essere una figura simile a uno spaventapasseri Girai doveva chiamarsi poi vi era Vusvu che doveva avere due spade di nome Baigao poi doveva esserci Sasaki più giovane con un altro nome Farao Faro poi andando più avanti vengono fatte menzioni sul fatto che la nuova generazione ha sfidato gli imperatori e le abbattuti Rufi Kid Dell'O una questione sulla marina una questione sui rivoluzionari per un attimo ci vengono mostrati cinque astri vediamo la questione di Sabo contro gli ammiragli lo scontro che c'è stato l'arma di Giova per il recupero di Osso Bartolomeo poi i giornali quindi i morganz hanno riportato questo scontro che c'è stato i due ammiragli erano Aramaki e Fuggitoro ovviamente e tutti quelli che hanno visto cosa è successo a Sabo sono praticamente come reazione scioccati per un attimo ci mostrano anche Garp quando riaccompagna Shiraoshi negli uomini pesce e gli parla dell'incidente che è avvenuto dalla Basta Big News Morganz ci ha dato tre opzioni una fatalità i risultati delle votazioni e un tentato omicidio cosa significano questi indizi bisognerà capire tutti noi nella community facciamo l'illazione che poteva essere stato ucciso le cobra e magari qualcosa potesse essere successo anche ovviamente alla giovane Vivi sperando ovviamente che la sia viva perché noi lo crediamo però il padre potrebbe essere stato ucciso in un attentato magari le nazioni si sprecano hanno potuto dare la colpa a Sabo hanno potuto mettere Sabo in mezzo potuto essere incastrato in qualche modo perché noi sappiamo che comunque lo Zampino ce l'ha messo il governo mondiale perché Sabo le persone le aiutano le uccide c'è una menzione anche sugli ex flottari Cici Bukai il fatto della flotta dei sette che sono tra virgolette inseguiti in qualche modo dalla marina la marina ha mandato i suoi uomini ha dispiegato tutte le forze per arrestarli c'è questa cosa qui per un attimo vengono mostrate anche gli agenti della CP0 altra informazione è il fatto che il governo mondiale a Onigashima in quel caso abbia fallito su tutti i fronti e poi c'è la parte più importante del dualismo Shang Tsil-Rosso e Masha Adetici Barba Nera questa è la cosa più importante di questo buscoletto di questi due imperatori molto importanti adesso ne parliamo innanzitutto fa vedere che i due hanno personalità totalmente opposte Barba Nera espanne la sua influenza con piani astuti e lui ha la continua ricerca di potere e la sua fame il suo appetito la sua voglia di crescita non ha limiti continua costantemente a puntare alla vetta e magari poi c'è un'illazione dicono non è che tutta questa lotta fra i pilati in larga scala e tutto un suo schema elaborato addirittura attribuigli a lui questo merito a me sembra un po' esagerato però ci sta Ticci poi salpa da Cino Island all'isola dei pirati perché si doveva muovere ne sappiamo aveva un piano ambizioso dopo aver saputo ciò che era successo a Rivedere vengono velocemente menzionati i dieci capitani titanici dal primo al nono il decimo non ci viene detto gli altri nove li conosciamo tutti quindi è inutile che io le ripeta ovviamente diteci voi chi potrebbe essere il decimo capitano titanico inoltre viene fatta menzione del fatto che in un qualche modo Ticci potrebbe avere ereditato la volontà di Rox di Ksebek o Jibek su Shanks invece ci dice che è stato presente a un matrimonio dando la sua benedizione insieme alla sua ciurma ovviamente viene definito un leone dormiente che si muove in silenzio per mantenere l'equilibrio vi ricordate il nostro video l'imperatore dell'equilibrio Shanks mantiene questo ruolo da tempo e osserva tutto il nuovo mondo anche se abbiamo visto che durante il reverese è presentato dei 5 astri e gli stessi astri Goro Sei hanno detto che ritengono Shanks una delle più grandi minacce se fosse veramente spinto ad agire con azioni differenti i suoi effetti sarebbero su larga scala tutto il mondo subirebbe gli effetti di Shanks e molto probabilmente sarebbe difficile da arginare viene ovviamente rinomato anche il suo grandissimo rapporto con Monkhead e Rufi c'è una menzione su Kozaburo sulla manovaggia delle spade sulle spade maledette sulla questione delle spade nere la Shusui la Yoru si pongono molte domande per queste domande perché sono tutte domande che vengono poste in questo fuscoletto io vi rimando alla nostra live a tema sulla volontà degli spade accini la volontà delle spade perché lì ne parlano ben d'onde di questa cosa illazionando e sperando di aver detto la verità ovviamente siamo arrivati al terzo fuscoletto la settimana prossima uscita il quarto si apre con il dio del sole Nika il combattimento è limitato solo dalla sua immaginazione mette sorrisi sui volti di tutte le persone lungo e largo è l'incarnazione del guerriero della liberazione il corpo gli acquisisce le proprietà mangiandolo è quello della gomma il suo frutto è l'hito-hito-nomi modello Nika questo zoan mitologico appunto porta il nome del dio del sole il suo potere è così grande che ha sopraffatto Kaido la creatura sto urlando sto urlando la creatura più forte del mondo per favore voglio per favore la creatura più forte del mondo e sarà sopraffatto stop stop a televoto potrà questo frutto cambiare il mondo? staremo a vedere Nika si rivela il mistero di Jebo si infittisce questi due termini sembrano straordinariamente importanti e collegati mettendo insieme tutti i frammenti e le informazioni ottenute finora tuffiamoci in questo puzzle ci sono varie informazioni nascoste all'interno del manga più o meno nascoste tra virgolette qui c'è scritto nascoste ma noi le conosciamo testimonianza 1 Vuzvu ci parla di Nika quando combatte Kogimbe testimonianza numero 2 i 5 astri che parlano di questo risveglio del frutto il cui nome alternativo per insabella la situazione era Gam Gam No Mi l'antico guerriero il leggendario guerriero della liberazione che è ritornato pur non avendo modo oggi per alcuni di verificare tale leggenda le persone continuano a credergli perché lui libera gli schiavi libera i popoli libera le persone e tutti credono ancora che lui possa essere una salvezza il potere più pazzo del mondo il potere più bizzarro il potere più ridicolo l'abilità di rendere di gomma che cosa? l'ambiente circostante se stesso il proprio avversario addirittura rende di gomma i fulmini li rende afferrabili il tamburo riverberante della liberazione i poteri di Nika sono accompagnati da uno strano suono il battito del suo cuore molto strano molto bizzarro che contiene però il potere del dio il destino o le coincidenze legano tale potere a Skypia tale personaggio a Skypia vi ricordate la danza torna a fuoco molto interessante chissà cosa uscirà fuori da questa credenza in questione del sole in lontananza nella storia dopo 800 anni perché sì c'è stato un intervallo di 800 anni per far sì che questo frutto si risvegliasse nuovamente ed è stato rufio a risvegliarlo ovviamente 800 anni fa presumibilmente fu quello che era Joy Boy ovviamente il frutto si risveglia quando la mente e il corpo sono finalmente in grado di sfruttare il suo potenziale al massimo quindi c'è un'unione di intenzione un po' come dicevamo con le spade affilo la mia spada e la mia anima non mi prendete per Zoriano ovviamente questo frutto è molto importante avevano cambiato il nome per non far sapere ad un mondo che ci fosse questo frutto leggendario il picco di Rufy permette di trasformare la sua immaginazione in realtà e Rufy finalmente ha raggiunto questo apice ed è riuscito a battere Kaido in un combattimento mortale Joey Boy una figura esistita durante il secolo vuoto ben 800 anni fa ben 800 anni senza i tamburi della liberazione finalmente è tornato e ha risposto alle preghiere di tutti Zunescia lo riconosce quel suono nostalgico del suo vecchio compagno Rufy ovviamente in questo caso la principessa sirena conosceva il Joey Boy antico e anche egli era in grado di comunicare con il re dei mani incredibile era in grado di sentirli era anche conosciuta come l'arma ancestrale Poseidon si dice che un altro ragazzo molto simile a Joey sarebbe tornato un giorno per guidare l'attuale Poseidon cioè Shiraoshi è quello è Rufy c'è ovviamente una lettera di scuse della promessa da mantenere molto tempo fa incisa su Poneglyph nell'isola degli uomini pesce e ovviamente Rufy manterrà tale promessa porta in superficie gli uomini pesce poi viene detto che lo attendevano da secoli che gli uomini pesce lo stanno aspettando il fatto che Roger quando arrivò lì all'ultima isola Laftel era colmo di gioia nel leggere tutte le informazioni il fatto che oramai è tornato il fatto interessante che però noi vi avevamo detto nel video di Rufy che il frutto di Rufy viene categorizzato sia come paramescia che come zone mitologico quindi viene spiegato sia il Gamgammonomy che l'Itoitonomy modello Nikka e questa è una cosa molto interessante poi dopo vengono divise le tre categorie dei frutti che sono paramescia roya e zoan e vengono date proprio un'elencazione che non finisce mai che io eviterei di leggere ma più che altro vi rimanderei insomma agli post su instagram e facebook per leggerveli voi perché altrimenti veramente non finiamo mai ovviamente ci parla di come vengono utilizzati i frutti come vengono utilizzati i roya come fanno i paramescia come sono gli zoan gli eventuali risvegli le capacità da parte degli zoan di essere rigenerati di avere questa forma potente il fatto dei roya il fatto che si trasformano nell'elemento il magma eccetera eccetera di come invece i paramescia riescono a modificare anche l'ambiente circostante c'è l'esempio di Do Flamingo eccetera eccetera quindi sappiamo già quelle cose e vi rimando a leggere questa elencazione tassativa dei frutti e dei loro possessori in questo caso ci sono varie bots di Yamato perché Oda aveva varie idee sulla figlia o il figlio di Kaido come preferite inizialmente ha avuto varie idee una diversa dall'altra la voleva rendere più femminile la voleva mettere con un aspetto più longilineo voleva renderla facente parte della tribù dei tre occhi inizialmente infatti non voleva mostrare la sua identità e c'è la maschera dell'annia inizialmente non gli voleva dare il canapo bensì una spada quindi poteva essere sia una spadaccina che una Honeime maestra di arti maziali quindi una principessa demoniaca che però era fortissima nelle arti maziali ho avuto vari concept varie sfaccettature vari schizzi che ci sono per la questione della nostra Yamato speriamo molto presto in giurma ci sono altre piccole informazioni altri concept le mosse queste cose così io vi rimando lì ai post che sono su facebook e su instagram altre piccole informazioni altre piccole bozze su Yamato molto interessanti il fatto che alcune bozze parlasse come Oden il fatto che usasse Boku o Resesh il fatto che volesse prendere il mare con Rufi e così via e alla fine c'è una mappa un recap dei vari personaggi nelle zone di Uano prima della partenza di Onigashima la divisione del primo e il secondo atto con delle informazioni molto generiche e poi c'era la divisione delle regioni come avete visto praticamente ci sono molti recap delle informazioni qualche informazione nuova lo sapremo solo alla fine se poi ci sarà stato spoilerato qualche dettaglio ovviamente venite a dirci voi cosa ne pensate di questi primi tre opuscoli se vi sono piaciuti se avete avuto un'idea se volete fare un'illazione se volete dare una conferma se volete fare un commento da sfogliatori soprattutto iscrivetevi lasciate like e mettete l'hashtag road to laughter per favore road to laughter detto questo attivate la campanella passate tutti i nostri social in descrizione iscrivetevi un bacio a tutti dal capitano ma anche da Katakuri come sempre solo la verità